Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica, ovvero il 45esimo dall'inizio dell'anno. Nella serata del 2 ottobre ne sono arrivati 52 di nazionalità irachena, kurda e iraniana. Tra loro anche sei donne, una delle quali incinta. I profughi sono stati intercettati a circa 50 miglia dalla costa da un'unità navale della Guardia Costiera roccellese mentre viaggiavano a bordo di un'imbarcazione a vela in condizioni meteomarine difficili a causa del forte vento di Scirocco. Il viaggio del gruppo, secondo le testimonianze raccolte dal personale della Guardia Costiera e dalle forze dell'ordine, era iniziato giovedì scorso da un porto della Turchia. Dopo l'arrivo, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, che ha coordinato l'attività di soccorso e assistenza, sono stati temporaneamente ospitati nella tenso struttura allestita nell'area portuale, gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile, in attesa di essere trasferiti in un centro d'accoglienza. Le loro condizioni sono...